Ci hanno chiamato verso le 4 che praticamente era suonato l'allarme, siamo intervenuti, siamo 11 sul posto e praticamente abbiamo trovato tutto il piazzale devastato, una grossa deflagrazione, probabilmente è stato usato degli esplosivi. E' stato fatto esplodere nella notte con la tecnica della marmotta uno sportello, banco matta, san sepolcro. I ladri poi sono riusciti a darsi alla fuga con un bottino ancora da quantificare. E' successo attorno alle 3 di notte lungo la via Senese e Aretina all'interno di una stazione di servizio. Abbiamo ripristinato un po' il luogo il meglio possibile, ora le attività di base sono ripartite. L'ATM era stato caricato la scorsa settimana e l'utilizzo di questi giorni potrebbe averne ridotto notevolmente la somma contenuta. I banditi hanno utilizzato la cosiddetta tecnica della marmotta che consiste nel praticare un foro nell'apparecchiatura e nell'inserirvi l'ordigno per poi attendere l'esplosione. Una volta scardinato il dispositivo e raccolte le banconote, i ladri si sono dileguati nella notte. Nessuna persona è rimasta coinvolta, l'esplosione però ha creato ingenti danni ai locali interni dove si trovava l'apparecchiatura senza compromettere la struttura del fabbricato. Ci sono dei danni ai infizi soprattutto in piante elettrico, cartongesso, morature che sono letteralmente esplose dall'interno quindi per fortuna non ha preso fuoco nulla perché c'era anche quel rischio. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Sansepolcro al vaglio degli inquirenti adesso alle immagini del sistema di videosorveglianza privato ed urbano.